Arriva il caldo africano anche in Toscana. È la prima ondata associata all'anticiclone africano Scipione che porterà 34 gradi al nord, 38 al centro e 43 gradi al sud. Sarà dunque un evento estremo associato al riscaldamento globale, un altro esempio del clima che cambia. La nostra regione però potrebbe essere lambita dai temporali che interessano il nord con un'Italia spaccata in due. Previsioni che per i prossimi giorni parlano di temperature roventi, al sud e forte maltempo al nord. Con possibili anche tornado, grandinate e altri fenomeni estremi, in quanto la perturbazione arriverà dopo giorni di gran caldo, soprattutto di elevata umidità. È il primo vero gran caldo del 2024, con massime fino a 12 gradi oltre la media di giugno. Un caldo africano, insomma, potente e in anticipo. Le ondate di calore sono sempre più frequenti e lunghe. In Europa registriamo un aumento del 57% del numero di persone esposte a questo rischio climatico rispetto al decennio 2000-2009. Domenica la canicola aumenterà, mentre al nord sarà il maltempo a far paura e la nuova settimana resterà forgiata da questa impronta. Al nord, su parte del centro, flusso piovoso e temporalesco, al sud il termometro continuerà a salire. Il picco del caldo di Scipione e l'africano sarà tra martedì e mercoledì in Sicilia, con 43 gradi nelle zone interne. Domani tante nubi verso la Toscana e lunedì locali temporali e calo termico. Intanto in Toscana molti sono partiti o partiranno per le località balneari, elezioni permettendo.